ciao Enzo ecco qui tu sei un grande mito che ti cercavo e ti chiedo un super saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono. A te Dio ti benedica sempre grazie poi la voce di Staunlauren che è un mito come fa Staunlauren? Ciao! Valeo come stai? Ti regalo la manina l'ho portata apposta per te per salutare tutti i tuoi fan Grande Enzo Garinei aggiungi un posto a tavola la voce di Lassu ciao